Più 44.000 occupati, meno 143.000 disoccupati. Sono donne del sud, sono cinquantenni che tornano ad avere una chance grazie al Jobs Act. È l'idea che il paese si rimetta in moto. Allora ci siamo? Dopo sette anni di buio, finalmente un po' di luce? E il Jobs Act è servito davvero a rilanciare l'occupazione? A presa diretta, Tutele Crescenti, domenica ore 21.05, Rai 3. A presa diretta, Tutele Crescenti.